Un fiume considerato il più inquinato d'Europa che ora vede una concreta speranza di rinascita. L'Aula Consiliare di San Valentino Torio ha ospitato la presentazione del progetto di bonifica del Sarno con il collegamento anche di parte dell'area vesuviana e dei monti lattari al sistema di depurazione. Poi ci consegniamo due inizi lavori, quello per la definitiva risoluzione del collettamento dei reflui che vengono dalle falde del Vesuvio, Ottaviano, San Giuseppe, passando per San Valentino avranno finalmente un impianto di raccolta delle acque nere che li porterà all'impianto di depurazione di Angri e al tempo stesso consegniamo i lavori che portano tutte le acque reflui dei lattari verso l'impianto di depurazione di Focesano. Per i sindaci dell'agro è una giornata storica che apre nuove prospettive per tutto il territorio che orbita intorno al fiume Sarno. Sono in campo 250 milioni di euro, lavori già in corso in molti cantieri, sono circa 40 cantieri sul territorio lavori già in corso in molti casi, gare d'appalto in corso come per esempio nel caso anche di San Valentino Torio. Qua parliamo di 700 mila abitanti perché non è soltanto l'agro sarnese nocerino ma è anche l'agro vesuviano, l'agro nullano vesuviano. Noi stiamo risolvendo un problema che è datato 50 anni.